Le priorità sicuramente saranno la lotta e il contrasto dello sfruttamento lavorativo che è ormai un fenomeno, una piaga di questo territorio e che ormai si è diffuso in tutti i settori produttivi del nostro distretto. Deve essere una lotta sistemica, un contrasto sistemico che non è fatto esclusivamente di attività di carattere repressivo ma che deve vedere anche la capacità da parte della nostra organizzazione di modificare alcune norme esistenti che non consentono e non permettono ai lavoratori e lavoratrici in condizioni di sfruttamento di denunciare la propria condizione. Quindi un'azione che vorremmo fare insieme alle istituzioni e a tutte le associazioni che condividono l'analisi e condividono le proposte che ha fatto la Camera di Lavoro negli ultimi almeno 6-7 anni.